ci siamo il giorno in cui conosceremo il verdetto europeo per quanto riguarda questa stagione del mina è arrivato stasera al san james park si gioca newcastle milan partita decisiva per le sorti europee della del club rosso nero bisogna vincere a tutti i costi e sperare nella contemporanea sconfitta del psc a dortmund per accedere agli ottavi di finale da seconda in classifica ovviamente la vittoria dei rossonieri in inghilterra porterebbe quanto meno alla all'accesso all'europa league quindi tra virgolette alla retrocessione nella seconda coppa continentale per quanto riguarda la formazione la probabile a questo punto nel pomeriggio di ieri leao e okafor che hanno recuperato dai rispettivi infortuni sono partiti con la squadra direzione newcastle in difesa pioli non ha recuperato nessuno è stato convocato in siala della primavera e quindi teo ornandez sarà nuovamente adattato a difensore centrale accanto a tomore quindi la probabile formazione pressoché dovrebbe essere scontata con magnan tra i pali calabria a destra tomori teo ornandez difensori centrali con florenza sinistra al centrocampo dovrebbero esserci musa renders e love to chic con pulisici che viene riportato a destra leao a sinistra e girù di punta questa dovrebbe essere la prova per formazione salvo sorprese dell'ultimo minuto e quindi cosa dire bisogna sperare in questa partita di stasera bisogna vincere a tutti i costi almeno per accedere all'europa league e quindi continuare il cammino europeo in questa stagione ovviamente se dovesse arrivare notizie positive da dortmund sempre con il mila vincente andremo agli ottavi di finale continueremo la champions league ovviamente risultato importante non solo a livello sportivo ma anche a livello economico per quanto riguarda le case societarie e poi ricordiamoci una cosa importante non da dimenticare che questa partita c'è in ballo anche la qualificazione al mondiale per club quindi una partita quella di stasera importantissima come sempre forza milan